laudetur jesus christus cari amici teleradioscoltatori e pierluigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 23 luglio 2020 per il nostro consueto commento del giorno torniamo a parlare del ddl zan con tutta la battaglia che si è aperta in questo momento in parlamento con i 1017 emendamenti presentati a questo liberticida disegno di legge sulla cosiddetta omotransfobia su cui dovrà esprimersi la commissione giustizia della camera per valutare tempi e modi per la discussione di questi emendamenti che sono stati appunto messi tutti in atto e presentati proprio per evidenziare la gravità di quello che accadrebbe se questa legge liberticida dovesse passare e quindi proprio martedì 21 luglio la commissione presieduta dalla pentastellata francesca businarolo inizierà l'esame di questi 1017 emendamenti e non è escluso che questo possa impedire al disegno di legge di arrivare in aula nella data prevista al 27 luglio zan ha parlato di chiaro obiettivo istruzionista da parte soprattutto di lega fratelli d'italia contestando le proposte di modifica non solo nel numero ma anche nel merito perché secondo lui mirerebbero a svuotare il provvedimento dai suoi reali contenuti quindi i due partiti di opposizione per bocca dei loro rispettivi leader che sono presenti erano presenti anche in piazza montecitorio lo scorso giovedì per quella famosa manifestazione organizzata dal comitato restiamo liberi che ha visto in decine e decine di piazze italiane manifestazioni di protesta aveva annunciato una battaglia parlamentare contro l'approvazione di una legge che considerano pericolosa e liberticida c'è una nota molto interessante del consigliere della suprema corte di cassazione il magistrato alfredo mantovano che critica soprattutto l'articolo 2 di questo disegno di legge perché dice che rischia di sanzionare non già la discriminazione bensì l'espressione di una legittima opinione e aggiunge che ai sensi della presente legge non costituiscono discriminazione né istigazione alla discriminazione la libera espressione di convincimenti o d'opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e della libertà delle scelte quindi proprio l'inserimento di questo reato di opinione è quello che più di tutto in questo momento oltre a questa cultura lgbt che si vuole imporre pervasivamente costituisce la vera minaccia delle 493 proposte di modifica che sono state avanzate alla liga moltissime sono di iniziativa di alessandro pagano che è stato già protagonista di vari interventi durante la discussione in commissione giustizia che aveva temporaneamente contribuito a bloccare il deposito del testo unificato poi aggiungiamo anche questa proposta di legge zanne è pericolosa perché rischia di introdurre il nostro ordinamento un vero e proprio reato di opinione introducendo per esempio un concetto come l'identità di genere che è assolutamente vago non codificato dal quale discenderebbe una eccessiva discrezionalità nell'interpretazione della norma quindi ad essere sanzionati non sarebbero quindi se questo passasse non sa non soltanto i comportamenti violenti che già sono puniti in italia ma anche la semplice manifestazione di pensiero in ordine ad esempio all'ideologia gender o l'aberrazione dell'utero in affitto e ancora aggiungiamo che non escluso che la montagna di emendamenti presentati soprattutto da lega e fratelli d'italia sulla cui ammissibilità alla votazione sarà deciso entro breve possa riuscire a raggiungere l'obiettivo di un rinvio questa è la speranza che possa essere tutto rinviato poi sui tempi dei lavori potrebbe pesare anche la partita aperta del rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari che la maggioranza come ha dichiarato il ministro federico d'inca vorrebbe chiudere a luglio a non a settembre anche se tra le varie componenti governative manca ancora un accordo unanime a proprio riguardo quello che sta accadendo in questi ultimi giorni è raggiunta una nota molto interessante di roberto formigoni che dice che il vero scopo finale non dichiarato di questo disegno di legge quello è di tutte le lobby omosex cioè a rendere legali il matrimonio omosessuale a cui il contrario oltre il 75 per cento degli italiani poi l'adozione di bambini da parte di omosessuali la pratica orribile dell'utero in affitto che è un crimine che sfrutta e umilia soprattutto le donne povere del terzo mondo non solo ma come sta accadendo negli stati uniti dice formigoni si aprirebbe la strada ad un'azione risarcitoria obbligatoria attraverso quote riservate agli omosessuali nell'assunzione e nella assegnazione di alloggi pubblici nell'erogazione dei servizi con ovvia penalizzazione di coloro che non sono omosessuali e soprattutto diverrebbe sanzionabile ogni espressione di parere contraria al pensiero unico omosessualista diverrebbe punibile chi parlasse di matrimonio eterosessuale come la normalità della vita dei popoli o chi illustrasse la morale sessuale cristiana sarebbe mandato davanti al giudice il sacerdote che rifiutasse un incarico parrocchiale a un omosessuale dichiarato i genitori che rifiutassero di affidare i loro bambini a un militante lgbt questa è una nota direi molto significativa che giunge dall'onorevole formigoni ma ancora ce n'è un'altra direi molto significativa del giornalista scrittore marcello veneziani e dice che una legge liberticida di questo tipo prevarica sulla democrazia e sulla libertà perché alcune minoranze hanno priorità rispetto alla maggioranza della popolazione e agli usi e costumi di un popolo adottati da sempre quindi gay e trans e hanno tutele speciali che sono giornate speciali eventi speciali si configurano perfino reati di opinione speciale se si esprimono giudizi critici su di loro nessuna legge speciale tutela invece la famiglia la procreazione gli eterosessuali e tutto questo pur essendo inconcepibile avrebbe una tenue ragion d'essere in un paese dove fossero discriminati omosessuali affini ma da noi ogni giorno si paresa la presenza proprio pervasiva e intollerante di lobby gay al potere al governo in rai nell'informazione intere reti tv condotte da militanti della gagliezza e quindi dice veneziani stiamo parlando di una legge tutela e gloria di una minoranza al potere che non è emarginata e non è assolutamente perseguitata come si vorrebbe far credere ecco perché vedete cari amici telescoltatori è necessario pregare pregare e chiedere l'aiuto di dio perché questo disegno di legge non venga approvato che ora già da adesso non si può criticare ricordiamo che non si potrà parlare più di famiglia naturale e nemmeno di mamma e papà figuriamoci poi chi oserà dire peccato contro natura o comportamento disordinato quindi affermare la necessità di avere un papà e una mamma è qualcosa che verrà configurato come reato di omofobia fatto sta comunque che dopo l'approvazione di questa proposta un'affermazione di questo tipo non sarà più possibile pena la denuncia e la felina penale sporcata con conseguenti difficoltà nel mondo del lavoro voi capite bene che cosa vuol dire abbiamo visto queste performance veramente incredibili in questi giorni addirittura in quanto è accaduto a lizzano in questo paese finito su tutti i giornali in cui il sindaco antonietta doria ha pensato bene di chiedere l'identificazione del parroco del paese perché in chiesa si stava svolgendo un rosario per la famiglia una pessima figura da parte del primo cittadino che si è unita alla manifestazione del gbt di fronte alla chiesa chiedendo praticamente alle forze dell'ordine di intervenire non per reprimere chi disturbava la priera e manifestava in maniera disordinata ma chi pregava per tutelare la famiglia naturale capite dove stiamo arrivando questa è la nostra nazione che ricorda sempre più di avvicino un regime di stampo cinese e non possiamo nemmeno escludere cari amici di tele radioascoltatori che chi oggi si farà interprete di questi sentimenti saranno proprio quei cattolici che sono che hanno sposato queste ideologie che saranno praticamente coloro che spieranno i comportamenti dei cattolici fedeli che individueranno coloro che a loro avviso sono pericolosi che faranno le necessarie segnalazioni nei confronti di chi disturba diciamo il cammino questo cammino ideologico no sempre più repressivo ma comunque vedete che tutto questo dobbiamo dirlo è qualche cosa che ricorda sempre di più come tutto lo scontro finale di cui si parla sempre di più si avvicina ormai alle ultime conseguenze alle ultime tappe ma in questo la forza della verità trionferà con tutta la sua potenza con tutta la sua potenza invincibile perché la verità è in sé una forza che nessuno di noi può immaginare perché deriva da quell'ordine voluto e costituito da dio che non lo si può capovolgere oppure distruggere impunemente perché basta la stessa affermazione e la verità perché le tenebre della notte vengano scongiurate ricordiamo l'esempio bellissimo di quella fiammella di una candela che accesa in una notte nelle tenebre del buio della notte sconfigge con la sua umile forza vedete la notte delle tenebre e fa irrompere la luce quella luce che già ci consente di vedere di muoverci e di poter prendere decisioni e posizioni necessarie per poter rimettere ordine in un cammino che oggi è sempre più difficile in questa forza della verità cari amici dei radioascoltatori noi confidiamo perché la verità alla sua fonte in dio in colui cioè che la via la verità e la vita e che ha promesso attraverso la sua santissima madre il trionfo del cuore immacolato di maria ormai vicinissimo ed è in questa certezza cari amici dei radioascoltatori che auguro a tutti voi una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti Grazie a tutti.